Oggi parliamo delle batterie del Cybertruck che vi ricordo che sono 4680 come formato. Poi parliamo dell'India ancora perché ci sono dei rumor molto interessanti e poi torniamo a parlare di batterie Blade BYD sulle Model Y prodotte a Berlino. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla. Cominciamo parlando delle batterie del Cybertruck. Il Cybertruck monta la seconda versione, la seconda iterazione delle 4680, cioè le batterie prodotte in casa da Tesla che hanno la particolarità di essere un po' più grandi, con un diametro maggiore e leggermente più alte rispetto a quelle per esempio montate sulla mia Model Y, ma soprattutto sono un concentrato di nuove tecnologie. Sono la seconda iterazione perché la prima era montata, dico era perché attualmente non sono in produzione, sulle Model Y a trazione integrale ma standard range, con pacco strutturale, prodotte per un limitato periodo di tempo in Texas. Perché ne parliamo? Allora partiamo dallo spunto che è la velocità di ricarica, quindi la potenza di ricarica, con i primi Cybertruck in giro sono usciti i primi video dove ovviamente si sono fatti vari test di ricarica. Considerate che la batteria del Cybertruck è di 123 kWh, quindi è bella grossa. Considerate che la mia per esempio è circa 80 kWh, una Model S è circa l'or di 100 kWh, quindi il Cybertruck è decisamente più grande. Nonostante il Cybertruck abbia, diciamo così, una capacità di recuperare chilometri o miglia migliore, adesso ci arrivo, eh, degli altri pick-up elettrici come Rivian e Ford F-150, comunque nei test ci si aspettava qualcosa di più, quindi una curva un pochino migliore, quindi che tenesse per più tempo la potenza massima di ricarica. Che cosa intendo come chilometri o miglia ricaricati nell'unità di tempo? Ovviamente non si parla solo di quanti kWh riesce a immagazzinare in una certa unità di tempo, in particolar modo parliamo di 15 minuti e ora vi spiego il perché, ma questo dato va rapportato all'efficienza del mezzo, perché se io immagazzino per esempio 10 kWh, un conto è consumare 200 kWh, un altro conto è consumarne 300 kWh, quindi se io ne consumo 200 vuol dire che ho immagazzinato più chilometri, se ne consumo 300 ne ho immagazzinati di meno. Ma vediamo a noi, perché ve ne parlo? Perché attualmente il Cybertruck sul sito è pubblicizzato con 100 fino a 128 miglia immesse in 15 minuti. Ovviamente questo è il caso migliore, cioè batteria preriscaldata è normale e un range di ricarica che parte secondo me intorno al 10%, quindi batteria molto scarica. Quindi si parte da lì, in 15 minuti secondo il ciclo EPA riesce a immagazzinare questo dato, quindi 128 miglia. Ripeto, in generale la curva di ricarica del Cybertruck è stata un po' tra virgolette deludente, ma, cosa interessante, non è la prima volta che succede in casa Tesla, e ora vi dico quando è successo, c'è stato Drew Baglino che ha tweetato proprio in risposta a dei test sulla velocità di ricarica del Cybertruck che a breve, quindi alla fine di questo trimestre, quindi giugno, uscirà un aggiornamento software che migliorerà questa velocità di ricarica fino a 154 miglia, quindi è un dato preciso, il che vuol dire migliorare con un aggiornamento software il 20% della velocità di ricarica del Cybertruck, 20%. Perché Tesla agisce in questo modo e non è la prima volta? Perché soprattutto quando ha batterie nuove, diciamo che continua la fase di test anche dopo aver venduto le auto, e quando può, va a migliorare le prestazioni. È successo in maniera abbastanza plateale quando per la prima volta su Model 3 ha introdotto le batterie LFP che all'inizio effettivamente, soprattutto al freddo, avevano una potenza di ricarica abbastanza deludente, ma poi con un aggiornamento software Tesla ha sistemato le cose. È successo altre volte in passato, per esempio con i motori. È uscita con un motore nuovo e dopo qualche mese c'è stato un incremento di potenza del 5% del motore. Cioè, Tesla spesso agisce in questo modo. C'è un altro aspetto fondamentale, ora ve lo accenno perché non ho ancora approfondito l'argomento. Sandy Murrow sta smontando il Cybertruck. È arrivato alla batteria e ha scoperto che praticamente metà pianale è vuoto. Cioè, la batteria non occupa tutto il pianale, come può essere per esempio per la mia auto, ma occupa poco più di metà pianale. Cosa vuol dire questo? Che Tesla volutamente è arrivata a 123 kWh di capacità perché ha valutato che fosse, secondo loro, il giusto rapporto tra l'autonomia, il peso, l'efficienza. Quindi nulla vieta che, visto che c'è lo spazio, che un domani, magari migliorando la densità gravimetrica, quindi diminuendo il peso delle celle, possa aggiungere altri kWh mantenendo lo stesso peso. Cioè, lo spazio c'è. Secondo me questa è una cosa estremamente importante e interessante. Però non vado oltre perché voglio approfondire e poi ne parleremo sicuramente. Insomma, molto molto interessante questo aspetto delle 46-80. Anche perché se ne è parlato molto, qualcuno è molto deluso. Beh, ragazzi, considerate che è un progetto totalmente nuovo e pieno, pieno di nuove tecnologie. Quindi, come detto al Battery Day, ci si aspettava a Battery Day 2020, il giorno dopo ci si aspettava queste batterie al massimo del loro potenziale. Il progetto era spalmato in vari anni. Quindi dobbiamo aspettarci che circa nel 2026 si arriverà effettivamente agli obiettivi dichiarati da Tesla al Battery Day. Ora un piccolo accenno a una nuova Gigafactory. Ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa. Parliamo dell'India, quindi una Gigafactory specificamente dedicata alla produzione della Tesla piccola, almeno secondo quanto penso io quando abbiamo parlato del Robotaxi, se vi ricordate. Dovrebbe essere un investimento di circa 3-4 miliardi di dollari per una produzione annua obiettivo di 500 mila auto. Ve ne parlo perché sembra effettivamente che Elon si recherà in India nuovamente entro fine mese e ci sarà anche un annuncio, quindi non ci resta che aspettare. E ora rimaniamo nel campo delle batterie, ma andiamo su Model Y prodotte in Europa, in particolar modo a Berlino. L'anno scorso Tesla ha cominciato a consegnare delle Model Y prodotte a Berlino, trazione posteriore con batterie LFP Blade prodotte da BYD. Le altre Model Y trazione posteriore con un altro tipo di batterie sono sempre LFP ma sono prodotte da CATL, che cosa cambia? La forma delle celle. Le Blade sono lunghe come tutta la larghezza della macchina, sono lamellari messi una a fianco all'altra per formare il pianale strutturale, invece le CATL sono prismatiche e non sono strutturali. Quest'anno, nel 2024, mi risulta che Tesla abbia consegnato solo ed esclusivamente Model Y a trazione posteriore con batterie CATL, quindi non le Blade strutturali prodotte a Berlino. Sembra proprio che Tesla abbia ri-omologato con qualche modifica le Model Y con batterie Blade proprio l'8 marzo, la stessa data dell'altra omologazione dell'Hardware 4 che avevamo visto qualche giorno fa. E in più ha anche aggiornato l'omologazione di due motori, il motore anteriore, il 3D6 che già conosciamo, portandolo sulla carta, attenzione, da 235 kW a 255 kW di picco, e il 4D1, Airpin, portandolo anche lui da 235 kW a 255 kW. Questo non significa che l'auto poi avrà effettivamente un incremento di potenza, ma significa che Tesla ha trovato il modo con qualche modifica anche magari software di aumentare il picco. Poi sappiamo che il limite effettivamente è la batteria e nel nostro caso specifico la Blade può arrivare a 215 kW. comunque insomma potrebbero ricominciare a consegnare le Model Y prodotte a Berlino con Blade. Molto molto interessante perché in un video che ho fatto dove ho paragonato i due tipi di batterie effettivamente la curva di ricarica delle Blade è nettamente superiore. Vi ricordo che ieri ho fatto uscire il video del raduno di Varano 15 giugno ve lo lascio qui sopra così se non l'avete visto se ve lo siete perso durante la live di ieri lo potete rivedere mi raccomando vi aspetto numerosissimi. Finalmente abbiamo una consegna di una Model 3 bellissima una combinazione di colori stupenda blu interni bianchi di Nicolas che tra l'altro abita qui dalle mie parti e quindi sicuramente ci vedremo per un caffè o magari una birra e complimenti davvero davvero bellissima. E ora vado avanti con i saluti e i ringraziamenti per il supporto al canale grazie mille davvero a tutti e comincio stasera con Giorgio che mi ha scritto un piccolo contributo perché la tua passione non si fermi mai per chi la condivide grazie mille e ora passo a Matteo vi leggo prima quello che mi ha scritto e poi vi spiego il perché un piccolo contributo al compimento del terzo anno della mia Model 3 Standard Range tre anni tanta tanta roba ho iniziato a seguirti appena l'ho comprata e grazie a te ho vissuto dei momenti di aggregazione unici non mi dilungo complimenti per il lavoro che fai mi ritengo fortunato di aver condiviso con te l'esperienza di Livigno top e aspetto con ansia l'evento di Varano già il primo anno è stato strepitoso beh devo dire che Matteo è sempre stato presente nella community ha sempre partecipato agli eventi per venire a Varano per venire a Livigno scusate a febbraio è partito da Roma grazie Matteo è davvero stato un piacere conoscerti ed è davvero un piacere averti come amico e grazie mille per il supporto andiamo avanti con Salvatore quello che fa queste magnifiche felpe e magliette trovate in descrizione ma ve lo lascio anche qua sopra il link allo shop grazie mille anche lui ha voluto supportare il canale e mi ha scritto un aperitivo per il mio amico grazie grazie davvero e poi un saluto e un ringraziamento anche ad Andrea che mi ha scritto grazie per il tuo puntuale impegno grazie mille davvero a tutti questo è tutto per oggi vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao grazie mille Grazie a tutti.